ciao cari grazie ciao ciao da quanto sei tornata alla fine di agosto stai benissimo davvero grazie senti tra poco devo andare a uno spettacolo una riunione a scuola i 100 clown facciamo quest'anno sono anche segretaria non ti preoccupare se devi andare tranquillo non fa niente no no ho qualche minuto ci tenevo a vederti mi si è sembrato strana no era solo una giornata un po grigia tutto qui ho ricominciato ad andare a scuola e adesso faccio anche parte della squadra di nuovi anche se non abbiamo ancora iniziato le gare quindi probabilmente passerò la stagione in panchino posso portarvi qualcosa hai fame vuoi qualcosa solo una coca cola due copie grazie senti cara tu sei lì seduta davanti a me io non riesco a capacitarmi di quanto tu sia bella grazie è vero sei bellissima ti manca cosa l'ospedale no neanche gli scherzi stupidi di leo non ti manca proprio vai da un dottore si ho iniziato adesso grazie ho iniziato da poco da quando sono uscito tu io sì ho iniziato ma beh ho smesso forse per colpa mia non funzionava faccio da sola anche a me mi ci hanno costretto quindi non credo che durerà a lungo ti sei fatto crescere i capelli ah sì forse dovrei tagliarli un po' no no ti stanno bene davvero grazie ma non ti manca proprio no ma noi ci divertivamo lì dentro era un bel posto sì ma questa è la vita vera sì forse hai ragione sai devo andare devo andare a fare una riunione a scuola i cento i cento cloud sì sì l'hai già detto va bene ci vediamo e passa un buon natale un buon anno sì dai viva la vita stop